Sera a voi, lui niente Per la tua vita Perché io poti stare libero Oh, sono tutti guadalог, ma proprio il gioco Io ho capito di diventare Un diegno e ma che è il vincito Un diegno è quello che ha vinto la morte Gesù è l'agnello di Dio Gesù è l'unione di lui che ha vinto la morte Gesù è l'agnello di Dio Gesù è l'unione di lui Gesù è l'agnello di Dio Gesù è l'agnello di Dio Gesù è ilagnevo Gesù è ilконare Grazie. Ciao Davide, ciao a tutti, un saluto a tutti quanti, ciao Roberto, buonasera a tutti, come state? Gloria a Dio, gloria a Signore, aleluia. Ciao Roberto, ciao Angelo, come stai amore mio? Voi stai, è più o meno sempre uguale, sempre uguale in che senso? Perché io ti vedo meglio. Cosa c'è che non... Puoi parlare, tranquillo, parla, non ti preoccupare. Cosa è che vorreste ancora cambiare? Perché ciò che vogliamo cambiare... A riguardo a un saluto...